Ed ora le vincitrici vince il quattro di coppia agli EVB femminili della Canottieri Gavirate. Medaglia d'oro per Matilde Barison, Chiara Comodo, Simona Scalco e Francesca Pasqualini. Ci riproviamo ancora con le nostre allieve Bile piccolissime della Canottieri Gavirate e ci facciamo raccontare come è andata questa gara. Com'è andata la gara ragazze? Bene. Ce la volete raccontare dalla partenza? La partenza è andata abbastanza bene, abbiamo cercato di tirare già abbastanza dall'inizio in modo di prendere un po' di distanza, poi però eravamo molto allineati con quelle che sono arrivate seconde e terze, ma all'ultimo io ho urlato dai tirate e lì abbiamo andato tutto e siamo arrivate. Ragazze siete state bravissime, a chi vogliamo dedicare questa bella vittoria? Ai nostri allenatori Danilo, Matteo, anche a Gaspari e Gregorio. Brave ragazze, un quattro di coppia scoppiettante quello della Canottieri Gavirate. E anche i genitori, anche i genitori amici e le nostre compagne, cioè noi quattro che abbiamo vinto. Brave ragazze, a tutti e di più, brave forza Gavirate, brave ragazze. Brave ragazze, a tutti e di più. Grazie per la visione!